Ciao creatura Io sono Eccati Splendenti e benvenuta, bentornata nel regno di Cusai e S M A è proprio splendente oggi allora, nuovo, nuovo, nuovissimo video del mercato finchè ci sarà bel tempo, io ci andrò non so quanto durerà il bel tempo per bel tempo intendo che non piove, ecco si sa che questa stagione autunale di solito è piovosa quindi, ma non resteremo senza video perché in alternativa al video del mercato come ti avevo accennato tempo fa faremo gli outfit che ho già scritto sono alcuni video ma me li sto tenendo appunto per i video per sostituire i video del haul al mercato try on haul, tra l'altro che secondo me è solo la combo perfetta ti mostro anche tre cosine tre cosine che ho acquistato la volta precedente che mi sono regata a Rovigo per delle commissioni e nonostante questo sono uscita a fare il danno ovvero a comprare, 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 comprare anche se sono stata al mercato poco tempo sono riuscita a acquistare ben tre capi in due pancherelle differenti giustamente due 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 pantaloni da biscotto ovviamente uno per me e ovviamente uno per chi? per Gigi che è mio padre diamo un nome a questo padre che di cui sentite sempre parlare in ogni video haul perchè sempre prendo sempre qualcosina per lui perchè quando arrivo a casa gli dico ah no non ho preso niente lo vedo che si spegne e invece quando gli dico guarda ho comprato ti ho preso un regalino lui è tipo come i bambini no? qua ecco e con lui si chiama Gigi Gigi sembra proprio una figura tipo mascotte ma la nostra era mascotte è il piace quindi prima avevamo no forse sull'altro canale c'era mia bettonte ti ricordi e tra l'altro è lì che mi fissa su una minzola e ma adesso basta mia bettonte ha è andata via di moda noi abbiamo il piace adesso che tra l'altro è sempre stata una creatura gentile invece il mio bettonte era un haters ma si è trasformata in mascotte e anche in fan poi non so se ti ricordi questa storia se ci sei dagli albori creatura allora aiuti i miei occhiani stanno cadendo allora a notare anche che sto attenta ad ogni minimo dettaglio anche se sono pantaloni da biscotto perché non lo ripetiamo i pantaloni da biscotto che sono che è una una modo di dire accontratto da un appuntato di della serie scrap dove praticamente Elliot stava tipo in quel momento un po' così gonfi a casa che credo essere il ciclo probabilmente e stava mangiando dei biscotti e volevano farla uscire lei ha detto ma appena ho infilato i miei pantaloni da biscotto che sarebbero quei pantaloni elasticizzati comodi comunque se hai la pancia gonfia o stai mangiando schifezze sei comoda insomma non sono dei pantaloni che ti stringono la pancia e quelli da casa sono diciamo esclusivamente da casa invece ci sono coniati da me e mia madre i pantaloni da pasticcino che sono i pantaloni da biscotto però plus no? che puoi indossare anche fuori perché sono sì da casa ma anche da da uscire insomma non ti vergogni a indossarli fuori anche se in realtà io non mi vergogno neanche uscire con quei da biscotto perché sono proprio sono comodi e quindi stica ecco infatti questi volendo perché sembrano anche dei pantaloni da tutta tipo no? sì i pantaloni da tutta che hanno l'elastico però solitamente i pantaloni da tutta hanno dei colori un po' tipo nero blu scuro ma forse negli anni 80 avevamo anche le tutte di colori un po' più scargianti stile e i Robinson che io adoravo quella serie lo so a memoria poi ho scoperto il fattaccio e vabbè non ho più guardata per quello perché secondo me lo vedo sto un po' male pensando a quella quel fattaccio vabbè questi li ho presi per me le ho queste questa tipologia di pantaloni è solitamente diciamo il 99% delle volte li trovo in una bancherella che non mi ricordo mai si chiama Giuseppe Giuseppe mi pare il proprietario che sta iniziando a fare amicizia forse di andare mi pare io lo chiamo Gianni ma non si chiama Gianni credo Giuseppe perché sbaglio sempre i nomi che cacchi c'è la faccia da Gianni non è colpa mia comunque e off topic di solito in quella bancherella ci sono cose nuove ma con dei difetti o che sono state tipo in vetrina e ci sono un po' scolorite consumate oppure che magari sono state uccite in modo sbagliato mancano 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 insomma comunque hanno dei difetti in realtà a volte anche dei difetti abbastanza grossi magari la trovi nella boutique di Padova e te la ti schiaffano 60 euro e lì la trovi a 1 euro 2 euro ho visto che al sabato siccome dato che c'è anche un piccolo mercato al sabato a Rovigo piccolino e ci sono anche loro e loro lì fanno i furbi mettono le cose a 3 euro quando invece poi ogni tanto al mercato hanno 1 euro o 2 euro non so in base a cosa comunque questa volta ho trovato appunto di solito i pantaloni da biscotto li trovo sui 2 euro è raro che abbia trovato a 1 euro ma secondo me ho trovato anche a 1 euro bisognerebbe riguardare i video è che non ricordo ho fatto troppi video poi c'ho una pessima memoria quindi comunque per me ho preso questi questo beige che non non penso uscirò mai con questo beige ma non si sa mai nella vita potrei trovare una felpa che che si abbini e hanno il la coulisse come si chiama qua il cordone quello per stringere i pantaloni con l'elastico e che è un po' argentato glitteroso non so luccicante non so se si vede sto cercando di muoverli per far vedere che sono un po' luccicanti ma quindi con una roba luccicante io mi immagino che siano più da donna ma in realtà un po' impor cioè non è non è una regola cioè se uno è un uomo e gli piacciono le robe luccicanti non è un problema insomma ecco però non vedo mio papà non lo vedo uscire con una roba così capito? solo per quello perché ormai io ho tutti i suoi outfit sono decisi da me il mio bambola il bambolotto eh di questo non ho il video try perché sono tutti uguali questi pantaloni qua da biscotto me li hai visti 100 volte però li ho comprati è giusto che te li mostro ma sono i classici che ne ho 300 ma questo beige qua questo colore mi mancava se non sbaglio no però ormai avrò potrò metterli in tutti uno vicino all'altro fare l'arcobaleno no? in realtà non ho colori a parte quelli gialli quel colore tipo senape che sto usando appunto da casa come pigiama e gli altri sono colori sombri diciamo nero verde oliva bottiglia e beige grigi ti ricordi che ero indecisa se regalarli ma poi ci siamo accorti che erano troppo piccoli da regalare e li ho trovati dello stesso identico colore solo che questi sono una taglia XXL l'altra non ho guardato la taglia forse non c'era l'etichetta comunque mi stanno perfetti sono proprio belli larghi che mio papà stanno perfetti di pancia hanno sempre le tasche dietro sono uguali uguali a a quelli che ho comprato io tranne che non hanno il la i laccetti diciamo per stringerli quindi ti becchi se ti va bene questi se no niente per lui sono perfetti e poi hanno questo non sono glitterosi e poi sotto non so se si veda hanno una cucitura che dà tipo uno stile un po' volendo anche da pasticcino per uscire insomma non so chiare non riesco niente comunque quindi quel giorno ho pagato quattro euro di questi pantaloni che non hanno difetti quindi non ho ben capito perché stessero su quella pancherella forse nel mio non c'era l'etichetta della quella difetto non ho visto difetti su quelli di mio papà quindi vabbè e poi in una pancherella che poi è andata in vacanza perché anche questa di Giuseppe Gianni Giuseppe vabbè è andata poi in vacanza non c'era la scorsa l'ultimo mercato a cui ho partecipato tante erano in vacanza forse anche per quello hanno messo delle cose senza difetti a 2 euro perché poi andavano via non lo so ha fatto stanche in questa pancherella io avevo già tocchiato il cappello che hai visto probabilmente nella nell'anteprima del video un po' gandalf un po' cute mi ricordo un po' gandalf il colore e li avevano messi a 4 euro invece quella volta lì dei pantaloni da biscotto l'avevano messo a 2 euro e poi dopo sono andati in ferie e allora l'ho preso è troppo cute allora io cercavo un cappello da quello da pescatore stile però vabbè un giorno forse me lo prenderò quando ero adolescente e non andavano di moda io ce l'avevo e tutti mi sfottevano quelli da pescatore ero rosso tutti mi sfottevano adesso va di moda ovviamente io devo sempre essere precursore delle modi ma vabbè prendo anche quando mi ero fatto i capelli verdi tutti mi sfottevano poi è andato di moda tutti i capelli verdi colorati vabbè ed è un un cappellino invernale perchè il tessuto è abbastanza pesante e però non è impermeabile vabbè sto attenta ed è a gattino con dettaglio dietro la coda c'è anche la coda c'era anche nero ma era senza coda quindi era rovinato detto col cacchio e poi nero i baffi non si vedevano si confondeva un po' non si capiva bene il grigio è più bello poi ho questo grigio gandalf quando era ancora gandalf il grigio anche la forma un po' da gandalf quando me la metto aspetta solo che non è a punta devo devo abbassare aspetta perchè non lo metto mai dritto è dritto così? si si mi abbasso così lo vedi è che o mi metto le cuffie o mi metto il cappello e quindi questo cappellino 2 euro secondo me è super affare e mi sono vestita un po' diciamo buttato metallara diciamo uscendo con quel cappellino secondo me mi piace troppo che non c'entra niente l'uno con l'altro ma faremo degli outfit anche ma no spoiler e ho deciso che degli outfit cioè dobbiamo abbinare anche le scarpe ho tirato fuori un paio di scarpe perchè non mi mettevo da un sacco e mi ero dimenticata che fossero così comode ci sto girando in questi giorni mi attenuano anche un pochino diciamo mal di schiena ma non ci riesco a guidare perchè sono alte ma vedrai sono molto molto punk di curiosità e creatura vedrai insomma ok adesso andiamo a il try on all del mercato l'ultimo mercato che ho fatto che ho beccato una giornata bellissima sono partita che c'ero a freschetto avevo notato non i lunghi mi stavo morendo una certa alle 11 stavo schiattando di caldo ma non importa ho acquistato cinque cose tutte tutte pagate un euro all'una la banchiera da 50 centesimi famosa sai quella dove prendo sempre qualcosina l'ultima la penultima volta quella del cappellino non ho trovato niente di carino e poi il tipo il ragazzo l'uomo che è in quella banchinella lì nell'ultimo mercato mi ha fermata e parla italiano cosa è successo all'improvviso parla italiano ma è bello che mi ha fermato lui si è dovuto si è sentito di giustificarsi e gli ho detto beh sei qua perché non era neanche nella posizione dove è di solito sei qua non sei più là io tranquillamente do del tutto a tutti anche durante il mercato anche durante le vecchiotte a cui strappo di mano le cose le cose più avrezzate e mi fa lui no non abbiamo più bancherella non me l'ha detto proprio così con italiano suo ma si capiva bene non abbiamo più la nostra bancherella da 50 centesimi neanche gli altri mi ha detto adesso abbiamo questa e aveva una bancherella da 2 euro 2-3 euro con cose invernali ma l'ho guardata e non mi piaceva niente e l'ho detto ah ok dopo vengo qua prima vado là in fondo perché là in fondo in fondo è il corso è la mia preferita iniziare da là in fondo perché ha le cose più belle secondo me dove appunto c'era anche la sua e poi invece ho trovato una bancherella che aveva cosa? a 50 centesimi un euro quindi non ho ben capito e però a 50 centesimi non c'era nulla di che mi sono buttata sull'euro un euro e ho preso appunto cinque cose a un euro all'uno quindi a fine ho speso cinque euro totale quel giorno lì come prima cosa ti mostro questo vestito che appena l'ho visto e ho visto che costava un euro ho detto no vabbè lo devo prendere perché è veramente carino me lo sono anche provata poi te lo faccio vedere mi sta spoiler mi sta perfetto che poi sono arrivata alla bancherella ed era lì proprio stesso così che mi guardava e mi diceva compremi 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 e ho detto vabbè ti porto a casa con me nella stessa bancherella c'era una una camicia che se mi segui su instagram mi trovi col nome ecate splendente era una camicia super trash con delle anatre ho fatto la storia dicendo qualcuno mi fermi da comprarla in realtà non l'ho comprata vabbè ho avuto qualcuno dei follower che mi ha scritto non ho comprata è stato molto divertente e l'avrei presa giuro l'avrei presa se non fosse stata una taglia 50 e mi stava gigante se fosse stata una taglia giusta per me io penso che l'avrei presa perché era troppo trash cioè penso che sarebbe stata quella più trash della mia collezione con le maniche corte con le maniche lunghe una mia scritta non comprarla è da vecchia ma io sono vecchia raga io sono vecchia io sono vecchia ma io sono vecchia tutti mi dicono sempre più giovane ok sempre più giovane ma io sono vecchia ok cioè mi piace essere vecchia mi piace mi piace tutti i cave non vogliono essere vecchi io voglio essere vecchi mi piacciono le cose da vecchi sono più belle voglio essere la vecchia col cappello con le camicie strane capito io sono vecchia a parte gli scherzi le divinità hanno tanti tanti anni voi creature non vi rendete conto lo so che sembrano sempre delle sedicenni ma le divinità sono molto molto antiche comunque al di là di questo eh ho preso questo vestito che è della marca Mystar non so cosa non so che marca mi piace come è fatto il colletto mi piace che abbia adesso ti faccio io eh immaginavo è di poliestere 95% poliestere e 5 spandex però era troppo bello per lasciarlo lì in inverno ci sta comunque che anche se non è di cotone va bene sudarci dentro questa è la scusa che userò no l'ho sentito subito che dal materiale non era di cotone ma mi piace troppo senti mi piace troppo come è fatto questo è in più è sia elegante che sportivo particolare quando l'ho visto ho detto questo è particolare sicuramente mi starà bene perchè le cose particolari mi stanno bene perchè io sono una persona spiegliare e quindi sembra anche un po' impermeabile si piove così non lo so ma ho dato le vibes ad autunno adesso te lo mostro non riesco a farlo ti dovrò mostrare indossato perchè così non si capisce questa è la parte sopra vabbè vediamolo insieme indossato che facciamo prima mi sposto ok mi piace troppo mi piace che abbia il colletto così mi piace che abbia le taschine davanti poi l'elastichino tattico e anche arriva un po' sopra il ginocchio quindi ci sta solo che tutte le camicie mi fanno quella specie di pieghetta lì davanti dove ho le poppe non so perchè e ogni tanto mi si apre qualche esplode qualche bottone delle camicie e mi ritrovo con le zizze di fuori devo stare attenta lì stavo guardando se è meglio tirare su giù l'elastico ma secondo me va giù perchè sopra mi fa troppe grinze lì c'ho quel problema del bottone delle poppe che spingono e vabbè comunque penso che mi stia molto bene anche il colore mi piace molto fa proprio moz vibes novembre secondo me che bello mi piace un sacco sono troppo felice di averlo trovato un euro poi ci sta lo userò tantissimo fa proprio vibes autunnali soprattutto per il colore che mi ricordano un po' il colore delle foglie che che marciscono vabbè lo sai che io non riesco a fare un visperfezionale devo sempre dire quel chicca volata però in realtà è così c'è le foglie che diventano più scure e e tutti i colori si diventano sul tono del marrone scuro verde scuro arancione secondo me ci sta da dio c'è proprio colore novembre no? e poi le maniche lunghe quindi ci sta adesso vedremo anche di abbinarci qualcosa ci faremo degli outfit comunque sicuramente perché questo vestito è molto vibes autunnali quindi ci sta perché voglio fare gli outfit abbinati al periodo quindi ti è piaciuto secondo te cosa ne pensi di questo vestito mi sta bene non mi sta bene tra l'altro ho fatto un sondaggio sul cappello su instagram e qualcuno aveva usato dire che non mi stava bene cioè io l'ho bloccato l'ho bloccato in realtà una persona mi ha scritto che non stavo bene e l'ho lasciata lì un altro bloccato perché era un profilo fake che mi infastidiva quindi ho trovato la scusa diciamo ah sì se me ne è toccato mi dici che sto male tu blocco era da un po' in realtà che me lo bloccavano però mi ha fatto ridere che c'è stato quella scusa tra virgolette poi in un'altra bancherella che per l'appunto visto che ormai sei di casa e conosci tutti i miei giri la bancherella dove di solito compravo le magliette levis o di marca aveva messo poche cose sta finendo si vede le ultime cosucce a un euro aveva anche tante cose più invernali aveva anche le felpe a 3 euro però non me ne piaceva neanche una e c'era anche una della Vans però non mi piaceva il colore e e quindi a un euro all'una ho preso 4 cosucce adesso te le mostro quindi niente più camice da 50 centesimi ahimè purtroppo e però come da tradizione visto che stiamo andando verso l'autunno anzi ci siamo dentro e vabbè fine settembre così ho preso un'altra camicia sui toni di novembre e dal mio punto di vista e con le magiche lunghe ho preso questa camicia di H&M che credo sia da uomo taglia S perché se fosse stata da donna S non mi sarebbe andata minimamente invece questa è perfetta quindi ho capito che le camicie S da uomo mi stanno perfette perfette intendo strettine e però giuste di manica non troppo oversize ecco perché la camicia effettivamente mi piace di più cioè mi piacciono anche quelle oversize da mettere magari sopra una t-shirt ma per essere più estetic sono belle quelle che chiudi fino a qua e sai tutto non so come spiegarlo comunque vedrai nel video dell'Hull ed è tipo un rosso bordeaux e blu questo questo abbinamento mi mancava nel mio armadio anche e soprattutto di questo materiale qua diciamo che ce le ho tutte oversize anche se comunque essendo un po' più in carne dell'anno scorso degli altri anni dell'anno in cui le ho comprate magari adesso mi stanno anche meglio però non sono tagli S quindi non mi staranno mai a te latine come questa ma va bene così perché possiamo comunque fare degli outfit belli belle lo stesso e poi è bello alternare anche cose attillate con cose un po' più larghe perché dipende anche dal mood del momento in cui faccio creare un outfit che voglia di stare un po' più comoda magari eccomi qua ho cambiato location mi sono messa lì perché mi sembrava che si vedesse meglio la luce comunque dai bella vedi ho sempre quel problema del bottoncino tra le poppe guarda guarda come mi lamento come mi lamento del bottoncino comunque mi sta perfetta è bella molto bella un colore bellissimo tra l'altro un colore bellissimo proprio anche questo mi fa molto vibes adunali mi sa che lo metterò nel titolo ho preso una una giacchetta per mia sorella perché è troppo bella se mi fosse andata bene forse l'avrei presa per me non lo so non lo so comunque è una taglia L persca taglia L diciamo che io di queste tipologie qua che stanno così L mi dove prende mi fosse una XL da donna perché ho le spalle molto larghe essendo 1,73 insomma nonostante sia tutta storta ma ho le spalle larghe io credo di avere una 46 di spalle neanche una 44 una 46 l'ho sempre avuta anche quando ero sotto peso e avevo la 42 di pantaloni che però mi erano acqua da Venezia perché ero iper magra di fianchi ma con le gambe lunghe quindi mi mettevo comunque mi compravo comunque i pantaloni taglia 44 perché altrimenti avevo tipo la caviglia di fuori e questa cosa mi infastidiva abbastanza e e quindi mettevo di solito i pantaloni con la cintura però di spalle anche quando mi compro dei giubbotti di qualsiasi cosa che va sulle spalle che non sia una t-shirt se è se sono tagli femminili io devo mettermi la 46 perché ho le spalle larghe comunque perché se no mi tira mi sento Hulk infatti con questa mi sentivo Hulk perché quando facevo così mi sentivo un po' tirare no? come quando le tette è uguale che scoppiano i bottoni sono un po' Hulk ecco in questa situazione e è questo giubbettino di mezza stagione anche questa fa molto ero nelle vibes giuste di autunno fall vibes ed è sempre un verde militare non lo so un cachi un verde bottiglia un verde oliva non ho ancora capito adesso è da stirare sicuramente sarà da stirare e è pesantino però è neanche troppo ed è gruppato che io non ho così gruppate non è che mi piacciono tantissimo invece a mia sorella piacciono quindi è perfetto e lei non so che taglia abbia perché è un po' uscilla da qua e di là io sono bene o male sempre fissa invece lei dimagrisce tantissimo poi insomma ecco quelle cose lì non andiamo nei dettagli comunque comunque l'ho provato per farti vedere ecco di cosa parlo perché le maniche mi stanno giuste di maniche però di spalle mi fa un po' stile Hulk e poi è croppato nel senso che è più cortino dei classici giubbini insomma eccolo qua è da stirare indubbiamente però ecco vedi che è bello che comunque esca lo strato della camicia sotto poi alla sua cerniera eccolo qua perché ho fatto due video uno il primo l'avevo fatto per te creatura il secondo l'avevo fatto per mia sorella perché volevo mostrarle cosa le avevo comprato e nel secondo faccio una faccia tutta perché si vede che in teoria non l'avrei messo su youtube invece poi lo metto perché mi fa morire la mia faccia tipo è compiaciuta no? che è figo no? però appunto io non riuscirò a portarlo perché mi stringe sulle spalle secondo me però lei sta da dio e lei ha già detto che vorrebbe modificarlo non lo so vedremo magari non so ci dipinge sopra ci mette qualche borchia secondo me è bellissimo non so mai se sei curiosa creatura appena lo modifica oggi le faccio la foto e la metto sulle storie così vedi come l'ha trasformato va bene? fammelo sapere nei commenti e poi se mi segui sui G lo vedrai poi ho preso tra l'altro ci sta anche abbinato bene con quel colore lì con la camicia a lei avevo regalato una camicia simile quindi potrebbe benissimo abbinarlo e poi ho preso una maglietta per mio padre ma se non gli va bene me la tengo io perché mi sta bene ed è bella come sempre originale converse una taglia L una taglia L sempre sui colori del verde perché erano in mood e ho scritto converse all star è bella morbida sicuramente di cotone 100% cotone non si leggerà mai mi piace perché ha oltre a avere scritta qua converse anche questa qui tipo etichettina che ho scritto converse per davanti comunque dopo nel video mi pare che ti faccio vedere quando me la provo anzi andiamo a vederlo subito subito eccola qua vedi mi sta bene quindi mi sa che a lui se gli sta piccola mi la tengo io ecco mi piace quel dettaglio lì bella mi sta proprio bene mi sa che io le ho già detto ma se non ti va bene me la tengo io e lui no no ma mi va bene secondo me gli è stretta però alzo le mani perché lui la vuole poi ha preso questa camicia sempre a un euro indovina la marca perché in quella pancherella prendo sempre le stesse marche a parte perca macconverse e levis oppure jack jones ho già tutto vedete jack jones adesso ho preso questa sempre con questi toni un po' scuri ed autunnali è verde scuro blu blu scuro bianco ed è una una camicia tra l'altro anche anche l'altra quella di jack jones aveva i bottoncini anche questa il bottoncino di di ricambio praticamente è nuova e sempre pagata un euro come tutte le altre cose che ho preso ed è appunto credo taglia L sì taglia L te la mostro questa è quella da da indossare diciamo aperta l'ho indossata tra l'altro ho pinata una maglia verde ci sta da dio ma sicuramente anche con una maglia nera non è neanche troppo larga quindi è proprio mi volendo si può anche chiudere bella mi piace molto ha un colore molto bello che tra l'altro in video anche da vivo è un verde un po' alpain green diciamo perché ha un po' qualche sfumatura io lo vedo così poi non so qualche sfumatura sul blu quindi non è proprio un verde verde che tu dici verde verde sì ma un po' verde un po' come l'ottanio però chiaro cioè non so spiegarlo comunque è molto bello e non so se questa me la tengo o finirà perché io e mia sorella abbiamo un progetto ma adesso prima di parlarne dobbiamo un po' decidere ecco il da farsi iniziare provare eccetera eccetera quindi penso che anche questa verrà modificata ecco quindi vabbè non prima di parlare preferisco fare i nostri esperimenti tutto poi dopo ti farò sapere creatura ovviamente ti darò sempre aggiornata e niente questi sono stati i miei acquisti fammi sapere come al solito nei commenti cosa ti è piaciuto cosa non ti è piaciuto consigli se di guardando i miei video ti viene in mente qualche outfit da fare scrivimelo anche in privato che io prenderò tutte le vostre idee e le metterò insieme insieme alle mie come sempre ti ringrazio per essere stato in mia compagnia questa sera grazie 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 per il tuo like grazie per il tuo sostegno grazie per condividere i miei video stiamo crescendo quindi pian piano noi meglio pochi bambani come si suol dire io come sempre ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura